Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi in visita di cortesia l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Massé, accompagnato dalla consorte. Un incontro proficuo nel segno dell'amicizia e vicinanza fra Abruzzo e Francia, in cui è stato posto l'accento sui rapporti sempre più stretti con le imprese francesi, alcune delle quali già operano sul territorio, sui programmi di investimento, sugli scambi commerciali e culturali. In particolare è stata sottolineata l'importanza delle relazioni a livello di produzione industriale e scientifica, emersa la volontà di intensificare ulteriormente la collaborazione in campo culturale, accademico e di ricerca e nei settori legati all'economia e allo sviluppo. Per me è la terza visita all'Aquila, siamo venuti ovviamente per questo legame di cuore che abbiamo con Santa Maria del Suffragio, ma non soltanto perché abbiamo tanti interessi comuni, ci sono varie ditte francesi che hanno investito all'Aquila, in particolare PSA con FCA e anche Thales Alenia Space come Telespazio ed anche Sanofi. La città io la trovo sempre affascinante perché io ho visto che si restaura sempre di più e veramente si tratta di una vera rinascita e io trovo che è affascinante di vedere un centro storico così ampio con dei palazzi antichi ma che allo stesso tempo sono totalmente ristaurati e trovo veramente questo assolutamente affascinante.